Riccione, capitale italiana della boxe dilettantistica. Domani e domenica al Palazzo del Turismo si svolgerà il Tornese Ordienti 2011 Nord Italia, organizzato per il terzo anno nella Perla Verde dalla Vasco De Paoli di Sant'Arcangelo. A fare da prologo la riunione organizzata dalla Box Riccione per questa sera, a partire dalle 20.45 con ingresso gratuito. La manifestazione sarà ripresa dalle telecamere di Icaro Sport. Commentatore d'eccezione Maurizio Stecca. Abbiamo raggruppato diverse regioni, oltre all'Emilia parteciperanno la Lombardia, il Piemonte, la Liguria, la Valle d'Aosta, il Veneto e la Toscana. Noi abbiamo nel torneo un nostro atleta, si chiama Bellancini Federico, categoria 75 kg youth. Anche noi abbiamo un atleta, Bosatra Alberto, un junior, che combatterà nel torneo un 63 kg. Siamo molto contenti, anche di dare una visuale che il pugilato non è violenza, è solo una crescita di carattere fisica e di stare bene. Poi lo vedremo in questi due giorni, proprio anche per i bambini di quasi tutta l'età. Io credo profondamente nei valori universali di questo sport, che oltre a formare il fisico e allenare la mente al sacrificio, finalizzato ad ottenere un obiettivo nel rispetto delle regole dell'avversario, che è visto non come un nemico, attenzione, l'avversario, lui non è visto come un nemico, ma come un altro atleta da affrontare lealmente e da rispettare. La nostra città crede molto nello sport, lo potete vedere dal gran numero di impianti sportivi che abbiamo in città, lo potete vedere dalla qualità degli impianti sportivi. Per citarne uno, arriveremo ad avere forse il miglior impianto natatorio d'Europa quando saranno finiti i lavori che sono cominciati in questi giorni. Ho sentito prima il sindaco in un orecchio, non dico promettere, ma auspicarsi che si possa fare qualcosa anche per gli impianti che riguardano la box.